La procura di Venezia ha aperto un'indagine per omicidio colposo in seguito alla morte del bimbo di 4 anni, il cui corpo senza vita è stato ritrovato venerdì sera in un canale di Rione Pertini. Al momento il fascicolo è privo di indagati. Nessuna traccia di violenza è stata riscontrata durante l'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Padova. Al vaglio degli investigatori ci sono ora le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il percorso presumibilmente compiuto dal piccolo. Ancora sotto shock gli abitanti del quartiere che con la comunità protetta dove il bimbo alloggiava insieme alla madre hanno stretto negli anni un forte legame. Per il presidente del locale comitato, Giorgio Rocelli, la tragedia poteva essere evitata se si fosse realizzato il progetto ipotizzato dalle precedenti amministrazioni comunali insieme al consorzio di bonifica dei Sessile. Inserire a cavallo del scolmatore delle gosse piastrelle in modo tale da coprire completamente lo scolmatore. Sopra a queste piastrelle si costituiva, si costruiva anche una pista ciclabile. All'epoca, ricorda l'ex vicesindaco Sandro Simionato, residente in quartiere Pertini, c'erano stati anche dei finanziamenti ma poi il progetto è naufragato e si sono fatti interventi tampone. Una soluzione anche provvisoria, Chiosa Rocelli, andrebbe comunque messa in campo immediatamente. Credo che non sia una grossa spesa mettere delle reti che vadano su almeno per due metri in modo tale che così mettiamo in sicurezza la zona.